Benvenuti all'Avvocato Luca Favini, a Veneto 24, con noi Carlo Foglieni, Presidente nazionale dell'AIA. Buonasera, Presidente. Buonasera, grazie per l'invito. Presidente Foglieni, lei che è Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, sicuramente è fortemente informato per quanto riguarda la riforma della giustizia, portata avanti da Nordio. Il Nord-Est e tutta la parte degli imprenditori e professionisti si chiede che cambiamento potrà avere per loro la separazione delle carriere o quantomeno l'eliminazione delle correnti, che potrebbe creare anche piccoli vantaggi, una limpidità, una distensione dei nervi tra imprenditoria e la magistratura. Cosa ne pensi? Sì, allora il DDL Nordio, recentemente licenzato Consiglio dei Ministri, prevede quella che ormai da vent'anni si discute della separazione delle carriere e soprattutto dalla pubblica accusa rispetto al giudice che deve giudicare. Questo peraltro a tal proposito parte proprio negli anni 90 in piena tangentopoli, la necessità con delle procure che allora erano sempre più protagoniste anche con processi mediatici e quindi la necessità di separare le carriere ma soprattutto dare attuazione all'articolo 111 della Costituzione, quella sul giusto processo. Già la nostra Costituzione nel 99 viene modificata, viene previsto il giusto processo, quindi un giudice terzo imparziale di fronte alle quali ci sono due parti, l'accuso e la difesa in posizione sostanzialmente di parità. Una parità che non può essere solo formale ma deve essere anche una parità anche in apparenza perché questo permette anche al cittadino, all'imprenditore qualora dovesse incappare nelle maglie giustizia soprattutto per quanto riguarda il penale, quello di sapere che sostanzialmente il giudice che lo dovrà giudicare non ha fatto lo stesso percorso quello che invece è il giudice dell'accusa o meglio il pubblico ministero. Quindi da questo punto di vista il fatto di avere anche solo la parvenza di terza età permette di affuso sicuramente con un po' più di stato d'animo perché spesso volentieri nel momento in cui un cliente entra nei nostri studi a volte e questo probabilmente è un'esacerazione anche da parte del cliente, chiede di quale corrente è o di quale punto di vista politico al giudice. Il giudice l'avrà nel suo quotidiano, nella sua personale e ci mancherebbe altro che un magistrato quale cittadino non possa avere una sua opinione politica e comunque di qualsiasi tema, ma tuttavia quando svolge questa funzione deve essere scevro da questi condizionamenti e quindi da qui la terza età, l'impercialità nel percorso di preparazione. Questo anche perché di fatto agevolerebbe anche il ruolo della difesa perché non nascondiamoci che a un certo punto di vista è più facile l'attrazione fra il magistrato e il pubblico ministero per l'appunto facendo lo stesso percorso, pensiamo alla laurea in giurisprudenza, alla preparazione, al concorso, al tirocinio poi post concorso fino ad arrivare ad assumere il ruolo e quindi è quasi se fossero colleghi, anzi si chiamano colleghi e quindi questo sicuramente stona anche solo dal punto di vista prettamente formale quando si trova davanti a un giudice. Nel penale di fatto lo si vede, meno perché comunque l'accusa è sempre un organo dello Stato e ci mancherebbe rimane sempre autonoma indipendente, ma se ragionassimo nel privato, nel momento in cui andiamo in una causa dinanzi a un giudice e la controparte, anziché essere un collega, un avvocato, fosse un magistrato, oggettivamente questa unione o questa colleganza fra il magistrato e la controparte significherebbe evidenziare ancora di più quella appunto non parzialità o non imparzialità della controparte e del giudice precostituito naturalmente. Quindi questo è un po' quello che va a incidere. Poi i problemi della giustizia sono i tempi lunghi, sono ben altri, ma sicuramente questo è un punto fondamentale per dare attuazione all'articolo 111 della Costituzione che vuole un giudice terzo imparziale nel giudicare il libro da qualsiasi condizionamento. Diverso invece il tema delle correnti perché quello invece riguarda il Consiglio Superiore della magistratura riguarda l'organo di autogoverno del magistrato e quindi quello che ad oggi il caso Palamara ne è stato un po' l'emblema, si vedeva che anche nell'individuazione di determinati incarichi prevalevano logiche correntizie anziché quelle di merito. Invece con la riforma del DL Nord ho previsto il sorteggio e quindi il sorteggio quantomeno, non so se garantisce il merito perché il sorteggio è legato un po' alla sorte, come lo dice la stessa parola, ma tuttavia probabilmente evita quella precostituzione nel indicare determinati persone o magistrati a ricoprire determinati ruoli, soprattutto apicali, perché a seconda poi di chi viene disegnato cambiano anche i reati che vengono poi messi all'attenzione. Se pensiamo soprattutto al distretto di Brescia per esempio il procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha detto di concentrare proprio l'attenzione sui reati tributari, sui reati ambientali e su quelli che sono i reati dei colletti bianchi che riguardano poi proprio il mondo dell'impresa e quindi anche questo ne va a incidere inevitabilmente. Presidente Fogliani, so che siete in procinto di organizzare un interessante convegno il 5 luglio a Padova, proprio rivolto agli avvocati e alla giustizia. Ci può parlare anche di questo convegno? Sì, il 5 è l'anniversario, i 25 anni dell'anniversario della sezione di Padova ed abbiamo organizzato questo convegno intitolato l'avvocato nel futuro. L'avvocato nel futuro perché non solo attualmente stiamo e haiga questo tavolo riscrivendo la legge professionale perché anche oltre alle riforme costituzionali anche l'avvocatura sta riscrivendo il proprio statuto, il proprio funzionamento ma con quell'ottica legata al futuro. I temi possono essere molti, pensiamo solo all'intelligenza artificiale, quale impatto può avere sulle professioni, sull'imprenditoria in generale ma sulle professioni in particolare perché per la prima volta va a impattare non sui processi produttivi ma sulle opere intellettuali, quindi sulla prestazione d'opera intellettuale e il messaggio che vogliamo lanciare anche in questa occasione, come l'abbiamo fatto più volte, che la figura deve iniziare a diventare un punto di riferimento per le imprese soprattutto in quella fase di prevenzione, quindi di assistenza e consulenza perché spesso dall'avvocato si va all'ultimo, si va quando ci sono i problemi e quindi nella fase patologica del contenzioso e quindi poi finiamo in tribunale con tutto quello che ne consegue con i tempi della giustizia mentre l'affidarsi all'avvocato ma al professionista, a una rete di professionisti perché ormai oggettivamente è così complesso e complicato il mondo del diritto che non basta solo l'avvocato generalista ma ci vuole le specializzazioni, la preparazione anche con altri professionisti così da assistere alle imprese proprio in quel percorso di nascita, di crescita e poi mi piace ricordarlo di internazionalizzazione perché è evidente che in un mondo sempre più globalizzato non si può rimanere chiusi nelle mura dello studio e di un'impresa, quindi questo è un po' l'auspicio che vogliamo lanciare nell'occasione del convegno del 5 luglio a Padova e proprio in quella direzione prossimamente e anzi questo weekend saremo a Milano Marittima col consiglio direttivo nazionale della giovane avvocatura dove il venerdì ci sarà sostanzialmente una missione della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e anche in questa occasione parleremo di reati ambientali e della 231 e quindi del modello organizzativo affinché anche le imprese riescano a percepire che in realtà l'adozione di un modello 231 non è qualcosa di gravoso, non è un costo, bensì è qualcosa che li può tutelare in un'ottica poi non solo di eventuali contestazioni di reati, quali di reati ambientali ma anche per quello che riguarda la partecipazione ad appalti, anche ad appalti perché ormai il tema della sostenibilità e della prevenzione dei reati è un tema fondamentale anche in quell'ottica e lì un ruolo sicuramente l'avvocato lo può avere insieme agli altri professionisti. Presidente Carlo Foglieri, la ringrazio molto per il suo contributo, spero che ci saranno ancora nuove occasioni. Grazie a voi, buon lavoro. Un saluto anche agli amici a casa, alla prossima intervista. Grazie a voi.